Ciao a tutti Polio, sono PowerG, siamo qua in questo nuovo video, siamo qua su School Girls Simulator, una roba del genere, l'ho trovato così a caso su Google, è un simulatore di Kinder Simulator, ovviamente, allora vi spiego che questo è un simulatore in cui noi siamo queste ragazze che devono fare qualcosa a scuola, non ho capito nient'altro, comunque abbiamo moltissimi costumi, abbiamo questo da professoressa d'inglese, questo da una ragazza da faccia di costumi, questo non facciamo commenti, questo ancora non facciamo commenti, questo da letto, questo non lo so, da militare, da vestito celeste, vestito nero, karate e questo, è prof ancora, con quello giallo, metto questo in realtà è molto bello, allora possiamo cambiare anche i capelli, non vedo che cambi qualcosa, la mia scuola, con 0 fps, una macchina da militare, perfetto, proprio una, oddio, la investiamo, si, la investiamo, yeah, qua c'è pure una moto, possiamo guidare pure la moto, e va, allora, salve, piacere, mi chiamo Yandere, tu chi, cosa sei, no, 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 what have you done, nulla, uccido anche te, mori, se, ce ne è porno, ok, come va, tutto bene, che cazzo, cosa, praticamente abbiamo solamente gli occhi bianchi e le mani aperte, perfetto, qua c'hanno il bazooka, hanno tutto, ma sono uno zombie, un vero zombie che si rispetti, cammina così, se non cammini così, non sei un vero zombie, ma che cazzo, vieni, vieni, oh mio dio, una professoressa, salve, come va, no, 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 non deve andare, lo so che è un brutto odore, ma non offendervi, a se, come state, se vi sentite bene, c'halla, calco, No, devo picchiarlo Andatevene, sporche Ho una zucca Posso avere una zucca La prof Oddio, due prof Non mi toccherete mai il mio culo Non mi toccherete mai Corri Fugi Corri Prendi, prendi, prendi un'arma Devo proteggermi Guardatele Tutto Sono stato arrestato Per cosa? Per cosa sono stato arrestato? Ma chi ti ha detto di stare a casa? Te l'ha detto Ti prendo E lo do al mio gatto domestico Che lui è un carnivoro Cosa posso fare? Sono armata più del cemento Sono dietro? Sono dietro il mio culo Prendiamo lo scooter E scappiamo a Molise No Per colpa della Scusa Fatemi sapere che cosa ne pensate Quali sono i miei commenti Unite al gruppo Scrivetevi ai membri Della Fnafcraft Poi seguitemi sui social Facebook e Google Io vi ringrazio Per essere Fino a questo momento Seguite uno canale di Ciclare Detto questo Noi ci vediamo Ciao a tutti Cipolloni Gelo gli divertisi Poi Propecaster Viva Poi 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 Va Poi 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 Pu Grazie.